Rientro da un nuovo intervento sempre con il team dell'idroambulanza Croce Rossa Costa da Marti, ma rientro da Santa Croce questa ancora una volta escursione nostra per una vostra vacanza tranquilla, sicura, sulle spiagge della Costa da Marti è il nostro capitano, velocissimo nell'andata, eccezionale conduttore con il bicchiere Mario, con l'opsa Michelina e con il nostro coach Mario tutti al rientro sperando di non riuscire, ma non perché non vogliamo ma perché vogliamo che la salute vostra sia perfetta che non abbiate bisogno di noi un abbraccio a tutti ancora, a risentirci più tardi con la sorpresa che vi abbiamo preparato